Trame dal 10 al 14-12, l'infermiera Castora tenta di soffocare Jamie, mentre Ursula vuole vendicarsi dell'umiliazione subita a San Paolino Nuove e avvincenti puntate della soffo opera Una vita ci attendono anche nella settimana che va da lunedì 10 dicembre a venerdì 14 dicembre 2018 e che vedranno al centro delle vicende la famiglia Aldai Secondo le anticipazioni su quanto vedremo in onda su Canale 5 la prossima settimana infatti, vedremo che Jamie sarà rinchiuso su suggerimento di Ursula, in una cassa di cura, dove sarà accudito dall'infermiera Castora La donna come vedremo, tenterà di uccidere Aldai, ma il suo piano non andrà a buon fine Nel frattempo Ursula minaccerà Lolita per conoscere i nomi dei partecipanti alla festa di San Paolino dove la perfida Dark Lady aveva subito la tremenda umiliazione, mentre Maria Luisa e Victor sveleranno a Simon la storia del ritratto di Elvira Anticipazioni trame dal 10 al 14-12, Castora tenta di uccidere Jamie Aldai. Stando agli spoiler sulle puntate di Una vita in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset la prossima settimana, veniamo a sapere che, su suggerimento di Ursula, Jamie verrà ricoverato in una clinica dove l'uomo sarà accudito dall'infermiera Castora Carmen conoscerà la donna e avrà un brutto presentimento mentre Samuel e Diego faranno finalmente pace Le anticipazioni ci svelano inoltre che Castora, rimasta sola con il Jamie, tenterà di soffocarlo con un cuscino, ma il tentativo di ucciderlo non andrà a buon fine l'uomo, in grave condizioni, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza Castora in seguito Castora in seguito rivelerà a Ursula che durante l'aggressione, l'Aldei ha farfugliato alcune frasi riguardanti un quaderno di disegni da consegnare ai figli Spoiler 1 vita, Ursula minaccia Lolita, Simon viene a saperi del ritratto di Elvira Stando alle anticipazioni degli episodi in onda dal 10 dicembre al 14 dicembre prossimi, vedremo che Maria Luisa e Victor sveleranno a Simon la storia del ritratto somigliante ad Elvira Il maggiordomo penserà subito che la sua amata possa essere ancora viva e vorrà chiedere spiegazioni ad Arturo Valverde, ma i suoi amici lo faranno desistere Donna Susana e Adela nel frattempo si rendono conto che Simon nasconde qualcosa e sarà proprio Simon a raccontare ad Adela del ritratto La ex suora dirà di non essere gelosa di questo fatto ma a Maria Luisa non le crederà Stando alle anticipazioni di una vita che verranno trasmesse dal 10 al 14 dicembre 2018, veniamo inoltre a sapere che Ursula minaccerà Lolita, in quanto vorrà sapere tutti i nomi dei partecipanti alla festa di San Paolino, dove la donna aveva subito la tremenda umiliazione La domestica però non svelerà i nomi dei responsabili del rogo del fantoccio. Gli spoiler ci rivelano inoltre che Antonito tenterà di convincere Lolita dell'infondatezza della tesi della maledizione che pende sul capo della famiglia della sua amata e la farà incontrare con un medico per sottoporsi ad accertamenti medici Nuove e avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche la prossima settimana, appuntamento con le prossime anticipazioni per scoprire le novità sulle vicende ambientate ad Acrociast 38 Grazie a tutti